Solo parole e anche vaghe. Non ha trovato riscontri finora la denuncia della segreteria regionale della Flai CGL in merito alla morte di un bracciante africano nei campi intorno al ghetto tra Sansevero, Foggia e Rignano Garganico. Il misterioso decesso sarebbe avvenuto un paio di settimane fa. Gli investigatori hanno avviato un'indagine su delega della procura di Foggia che al momento non ha portato all'individuazione del lavoratore del Mali, la cui morte, che sarebbe avvenuta per la fatica estrema durante la raccolta del pomodoro, è stata denunciata da Ivan Sagnet, coordinatore regionale per l'immigrazione della Flai CGL. Il sindacalista è stato ascoltato dai carabinieri come persona informata sui fatti, dopo aver diffuso la notizia della morte di un giovane bracciante maliano, il cui corpo sarebbe stato sepolto nei campi dai caporali. Ma lo stesso Sagnet, spiegano i carabinieri in una nota, ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna informazione diretta e circostanziata sull'ipotetico evento, ma solo di aver appreso la notizia quale voce che circolava nel ghetto, senza fornire alcun elemento utile a rintracciare testimoni o comunque persone in grado di raccontare fatti utili, dalle indagini non risultano nelle ultime settimane decessi negli ospedali della provincia di Foggia di cittadini del Mali. La rete campagna e lotta aveva diffuso la notizia della morte in ospedale, senza indicare di quale città di un immigrato del Mali. L'unico dato certo però è che l'11 agosto agli ospedali riuniti di Foggia si era presentato un giovane maliano di nome Bubacar che viveva nel ghetto, ma per motivi non riconducibili a lavoro nei campi, forse per una dissenteria, il ragazzo ricoverato in gastroenterologia è stato dimesso mercoledì.